Incontro conclusivo oggi del progetto Giochi Sicuri destinato agli alunni della terza e quarta della scuola primaria dell'Istituto Suor Teresa Valsè di Macchidella. Il progetto si è articolato con la distribuzione agli studenti di un opuscolo contenente disegni in bianco e nero che riproducono momenti di vita quotidiana, in alcuni casi potenzialmente pericolosi per la salute, con brevi spazi lasciati liberi sotto i disegni per un eventuale commento da parte degli alunni stessi. Gli alunni hanno commentato e colorato i disegni. Alla fine dell'opuscolo si trova uno spazio libero dove gli alunni stessi hanno descritto un'esperienza personale o appresa dalla stampa o altra significativa da raccontare in tema di prevenzione di incidenti nell'ambito degli ambienti di vita. Qual è la situazione raffigurata nell'opuscolo che ti ha maggiormente colpito e perché? A me mi ha colpito la situazione della bici che i due ragazzi si giravano e non hanno fatto attenzione al sasso. Io ho scritto come esperienza che era pericoloso perché poteva cadere e rompersi la testa con la pietra. La maggior parte che mi ha colpito di questo opuscolo giochi sicuri è stato del bambino che puntava il fucile all'altro bambino e poteva essere pericoloso perché poteva ucciderlo, poteva partire un colpo perché senza la sicura è pericoloso. I ragazzi sono stati interpellati dall'ASL nella persona del dottor Migliore che naturalmente ogni anno come ogni anno viene a fare la sua, così chiamiamola relazione poi i bambini realizzano anche sia dei disegni sia completano degli opuscoletti dove verifichiamo anche le loro competenze e poi naturalmente attraverso l'osservazione ci rendiamo conto se quanto hanno appreso poi viene realizzato nel loro quotidiano. Il progetto è stato realizzato da Salvatore Migliore, direttore dell'Unità Operativa di Epidemiologia delle Malattie Cronico-Degenerative del distretto sanitario di Gela assieme alle docenti. È importante che si inizia a quest'età a parlare di sicurezza negli ambienti di vita proprio attraverso il gioco. Non sono anni che facciamo questo tipo di lavoro e abbiamo trovato un particolare riscontro in questa scuola perché addirittura si sono fatte delle simulazioni e quindi questo è molto importante per apprendere il concetto della sicurezza che poi viene trasportato anche negli ambienti di lavoro. Dobbiamo dire fra l'altro che nel piano aziendale il nostro direttore generale ha previsto la direttiva che è quella della regione di attenzionare la prevenzione degli infortuni e quindi dare quelle indicazioni che sono utili per poter assumere degli atteggiamenti corretti.